benvenuti a tutti in questo nuovo tutorial oggi parleremo di video scribe che è un'app quasi uguale ad afton che non sono però fumetti ma sono sono fumetti non sono fumetti ma sono dei video che si possono registrare la voce si possono mettere musiche quindi preparatevi a diventare rock allora non passiamo al questa cosa l'ho fatta io e rappresento le mie passioni non se non guardatevi con le mie passioni non so e ti auguro come significa il mio argomento e con i miei personaggi mi chiamano quando mi chiamano il mio bravo e con i miei personaggi mi chiamano se non puoi farmi vedere quelle cose che sono per il bambino ma sono proprio ho il calcio poi mi piace incollare le pezzi anche se non è quasi una parte di crespo poi mi piace scegliere però poi io ci guardo ho la piazza qua che non ci può volare poi mi guardo le pezzi negli altri poi mi piace quindi si può mettere pure la musica ma adesso vi imparo di come l'ho fatto di come l'ho fatto allora per scegliere innanzitutto le immagini si deve andare qui su questa cosa su questo quadro meraviglioso allora tipo scriviamo sport beh lo sport mi piace scriviamo sport e qua troviamo tutte le cose allora vabbè qua non fateci caso le ho presi di qua allora tipo prendiamo questo che significa camminare magari vabbè si sembra un po' umano allora potete fare quello che volete potete fare pure le storie dei giocatori però deve essere corto allora poi per fare il testo dovete andare qui sulla T non so perché la T si sono fissate in un'altra lettera no allora dovete scrivere una frase corta anche se qua c'è scritto 200 caratteri 250 caratteri ma perché non mettete 30 quindi noi scriviamo tipo mi piace camminare mi piace camminare eccolo mi piace camminare magari lo possiamo spostare se non sembra che camminare sta su un pantalone allora poi potete cancellare poi potete farlo così a 30 secondi che è una lenziazza assurda guardate mamma mia non voglio manco vederlo poi potete farlo a 0 secondi vedo 0 secondi mi piace un po' velocino un po' velocino ok allora allora qua tipo lo voglio scrivere a 0 secondi vediamo no io voglio ah no no lo fa subito non scrive manco quindi questo tutorial finisce qui e anzi no mi sono dimenticato delle informazioni allora quasi posso mettere delle musiche che questa qua mi sa che io vi consiglio di non mettere perché dura 8 minuti 36 e denna noia assurda guardate ok non ascoltiamo grazie già è fatto un piacere a crearla ma poi potete fare il sud record e parliamo allora mi piace camminare mi piace fare il cubo di rubik mi piace costruire bla 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 allora facciamo processare no scherzando ovviamente quindi però abbiamo capito se mettiamo 0 secondi questa cosa lo fa subito perché è velocissimo io voglio mettere tutto a 30 secondi voglio fare un attimo questo esperimento mi piace costruire bla bla vabbè sì abbiamo capito che è inutile allora quindi questo tutorial finisce qui e fatemi sapere se vi è piaciuto ciao